Ciao amici, purtroppo oggi vi devo mostrare la mia vincita in questo modo, perché purtroppo il telefono non mi ha registrato. Non lo so, forse perché è pieno la memoria, penso. E comunque oggi su una spesa di 20 euro che ho fatto, ho preso 40. Vedete, con il mega miliardario ho preso 20 euro e con il nuovo bigliettino Multistar abbiamo preso anche 20. E 20 con il miliardario. Bene, io spero che adesso sta registrando e mi scuso per questo inconveniente, spero di poter risolvere sul resto. E intanto comunque voglio fare anche un caro saluto a Vicky46. Ciao Vicky, scusami, purtroppo questo video mi è andato così e ora vediamo di risolverlo, ok? Ciao, grazie a tutti per l'interesse che avete per il mio canale. E niente, vi saluto a tutti, alla prossima occasione. Ciao a tutti, un bacio.